E chi è che arriva da più lontano? Da Sicilia Tu hai preso l'aereo stamattina per venire qua? Allora, però dove abiti? E allora? E ne approfitto Cerco di venderlo bene Da dove? Da Mundo V Vabbè, Cuno Ieri a Milano c'era gente che è venuta alla Biella Per cui Da Milano, Biella Ah no? No, a 100 km No? Forse è più vicino da Milano No, parliamo di quel cazzo che vuole Adesso dite voi di cosa devo parlare Perfetto, sono operativo, iuppi Meno male Ok Allora, incredibilmente Dopo che l'uomo ha inventato il cavallo Il Frank ha scritto un libro Sì, no, perché diciamo la verità Allora, questo libro nasce comunque Da una, non una mia idea Ma da una mia Eh Volevo